Non bisogna mai smettere di osare in cucina. Ingredienti Baccalà dissalato senza spine Panna Olio extravergine d'oliva Polvere di barbabietola Sale e pepe E ora Un tocco d'audacia Rustica San Carlo Più larga Più spessa Preparazione Avvolgete i due tranci di baccalà nella carta d'alluminio Cuoceteli in acqua bollente per 15 minuti a fuoco basso Condite il baccalà con panna, olio e liquido di cottura E lavoratelo nella planetaria Componitela mille a foglie di rustica E guarnitela con polvere di barbabietola Adesso tocca a voi San Carlo, il buon gusto italiano Partecipa al concorso sulla pagina Facebook di San Carlo Grazie a tutti